vita di porche è inutile che strille fanno le gelate la cottura d'acqua bolle gianna se naite cise e popolate appiccata nu cosciale squartate e po spazzate che sorta st animale fatta a partucce e cotte dentro a una patella con gli usenze di naite e con una panuntella tritata per sargicce poi i sfrizzi di lo strutte la ventresca o sanguinace la spalletta e gli presutte sfamate e raccudite con la gianna governate gianna ti mo ha finite e gli u mica comensate